buongiorno a tutti come sempre felpettino da bruno che freddo che fa anzi mi metto già il cappuccio capisco che siamo già è primavera però fa freschino ancora e poi dobbiamo parlare di sci ragazzi quindi finché riesco a mettere il felpino vado avanti a farvi video così poi se dovesse arrivare ancora maggio giugno che sto facendo sto recuperando i video ne farò bene perché fa caldo ma sperano di farcela prima sarà dura però ci proveremo sci alpino finali di soldeo siamo dopo di due le due discese libere maschile femminile andiamo a vedere il super g maschile come è andato il primo a scendere l'austriaco as fratello della della raffa e lui e rafael l'altra non mi viene in mente aspettate che vado a recuperarlo perché c'è un nome particolare infatti benvenuto da ridere ricarda ricarda non ho dovuto andare benvenuti in mente chiamare lei raffaela e lui riccardo noe ricarda as raffa e nasa va bene comunque vediamo se sfrutterà a pieno la pista intonsa bella dura e ricca di sale il suo tempo è 1 24 93 con qualche errorino vi spiego siccome la temperatura si stava alzando c'erano qua addirittura quasi 10 gradi la sera prima dopo salato la pista per cercare di mantenere la pista bella ghiacciata però cosa succede c'è lo strato di sale che resta sopra che si mischia tra virgolette con con la deve quindi se la pista s'asciuga col sale resta un attimino scivolosetta quindi se riesce a scendere tra i primi ancora un po ghiacciatella e scivoli un povero poi comincia a sciogliersi e diventa più difficile con il pettorale 2 scende l'americano caution sigle primi due termini in lucce rossa poi non sbaglia dove aveva sbagliato l'austriaco però è primo con soltanto 16 centesimi di vantaggio che sono forse un po pochini tocca al nostro mattia casse pettorale 3 vediamo se riesce a stare davanti a due attenti appena scesi purtroppo è soltanto secondo con 13 centesimi di ritardo quindi si pure appena davanti ad as appena 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 per il giusto ccd tocca sfalz pettorale 5 finalmente una bella prova da libidi perché si prende il primo posto con ben 57 centesimi di vantaggio adesso attendiamo i migliori però magari chissà un posto tra i cinque potrebbe averlo un posto sul podio la vedo dura però intanto tocca a sua besta codermatt visitore di della stagione coppa di super g già in saccoccia coppa generale già in saccoccia coppa di gigante già in saccoccia gli mancano 165 punti per fare 2000 punti nell'arco dell'anno super record che ho fatto in pochi scusate il mio raffreddore quindi mega andata galattica per odermatt ragazzi miei sua maestà non è che gli si dice sua maestà così perché fai bau bau bicio bicio o bicio bicio bau bau sua maestà perché sua maestà è primo con 29 centesimi di vantaggio e come ha detto il cronista e adesso provate a battermi perché kilde purtroppo è già sceso e quindi non è che ne restano molti tocca a kris mayer pettorale 10 purtroppo scivola subito dopo poche porte del primo degli atleti a non finire la gara ma adesso la vittoria dello svizzero sembra sempre più scontata classifica dopo la discesa dei primi 15 atleti abbiamo odermatt primo sfalza e secondo quindi ha saputo sfruttare il pettorale 5 il fatto che sfalza ragazzi miei magari non sarà uno sciatore che vince spesso per uno sciatore polivalente che fa un po tutte le gare che riesce a essere competitivo in tutte le gare e che quindi l'anno prossimo la stagione 2023 2024 potrebbe dare un pochino di fastidio odermann perché comunque odermann fa solo tre discipline le tre discipline veloci ma non fa uno speciale fa discesa libera super g e gigante pensaci tu non fa lo slalom sfalza fa anche lo slalom indi per cui se sfalza dovesse diventare molto molto bravo qui slalom e andare sempre non dico a vincere sempre però stare sempre dei primi 5 in tutte le gare di slalom che odermann fa e cercare di stargli sempre abbastanza vicino delle gale di gigante super gigante e discesa libera potrebbe potrebbe perché dall'austriaco e da tenere d'occhio al terzo posto comunque c'è kilde che vabbè se non è zuppa è pampagnato quarto caution sigle quinto jeffrey reed che è il fratello di eric reed sesto sander settimo casse ottavo aser nono burisier e decimo pinturo però ne devono scendere ancora dieci tra cui il nostro paris sfida interna con il compagno di squadra casse che è settimo a 99 centesimi dal primo che è appunto odermann incredibile paris recupera 25 centesimi dall'ultimo intermedio in cui era sotto di 1 e 23 e per un centesimino un piccolo centesimino beffa il suo compagno di squadra ed è settimo lui relega il buon cassa in ottava posizione stavolta il maestro ha superato l'allievo di poco è di poco un centesimo tocca l'americano crawford pettorale 18 purtroppo quando mancavano poche porte alla fine sbaglia salta una porta e saluta alla gara anche se bisogna dire che il terzo intermedio lo metteva un secondo e 63 dal primo quindi difficilmente sarebbe stato dei 10 forse debbero dei 15 tocca al nostro bosca pettorale 19 vediamo se lui riesce a stare davanti ai suoi compagni di squadra e ragazzi miei ci aveva illuso perché i primi due intermedi erano di luce verde ma poi è andato in luce rossa al terzo intermedio e luce rossa è stata anche se ha recuperato un centesimo era 1 e 38 ha finito a 1 e 37 di ritardo si prende comunque un dodicesimo posto che dovrebbe rimanere tale perché non è che devono scendere devo scendere altri sei uno è il ragazzino junior e poi altri cinque atleti credo che probabilmente il bombosca si terrà al suo dodicesimo posto che comunque fa sempre classifica vuol dire mantenere in ogni caso il secondo gruppo di merito quindi partire tra il sedicesimo e il trentesimo posto o magari cominciare ad avvicinare sempre di più il primo gruppo perché ragazzi miei scendere dall 1 al 15 è sempre meglio che scendere dal 16 al 30 scusate il raffreddore comunque tocca a 6 e 7 pettorale 22 purtroppo dopo poche porte sbaglia saltando una porta e anche lui deve salutare soltanto la gara ormai salvo una super mega galattica sorpresa ed esima vittoria però vero ma sesta vittoria su 9 10 11 super g il slalom gigante se non sbaglio non ha vinto solo una gara perché non vi ha partecipato le altre le ha vinte tutte ha fatto la bellezza di 740 punti 9 gare di super g fate voi il calcolo un mostro e adesso gli mancano solo 65 punti per arrivare a 2000 i suoi conoscenti amici eccetera perché chiedevano ma oder ma il record dei 2000 punti gli interessa non gli interessa hanno tutti detto lui è felice di aver già vinto tre coppe la coppa generale la coppa di super g e la coppa di gigante quindi già è contento così se arriva va bene però non è che ce ne fa una malattia ecco per intenderci comunque la classifica finale del super g vede odermatt al primo posto un ottimo sfarze secondo kilde terzo coach al sigo il quarto jeffrey reed quinto sanders sesto paris settimo casse ottavo laser nodo burisier decimo e bosca 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 dodicesimo bene ragazzoli adesso manca il super g femminile le gare una penso sia una sola vista la gara squadra e ad azioni di parallelo discesa libera anzi super slalom gigante femminile maschile slalom speciale maschile femminile quindi cinque gare che io mi auguro tra venerdì sabato e domenica di riuscire a farvi tutto in modo che massimo lunedì io vi posso anche tutte le altre tutte le altre gare anche perché della giornata di venerdì sono free anche se magari potrei guardarmi un amichevole se fanno un amichevole del su sky o che cosa alla sera però comunque un paio di gare dovrei riuscire a farvele non devo andare a fare la spesa devo andare a fare niente devo solo uscire due secondi a fare il lotto e basta che perdo cinque minuti non muoio indi per cui domani ci dedicheremo anzi oggi perché questo video lo vedete oggi quindi venerdì ci dedicheremo ancora lo sci poi sabato vi registrerò le cose che riguardano la formula 1 in modo che settimana prossima avremo formula 1 e sci e andremo avanti alla grande naturalmente lunedì sera o lunedì della notte per martedì mattina vi faccio le schedine per le tre gare che restano di vi do il mio parere più che altro parleremo un attimino delle dei tre spareggioni finali di per l'europeo e poi dopo naturalmente quando arriveremo a giovedì ripartiremo perché riparte il campionato che si giocherà sabato e lunedì perché domenica e pasqua e quindi il giorno di pasqua bisogna fare i bravi il bisogno è ecco e poi naturalmente la settimana dopo proseguirò con sci e quant'altro poi ci dovrebbe essere anche la donna c'è più se la settimana quella successiva e niente ragazzoni io vi saluto vi ringrazio abbiamo fatto anche il super g maschile delle finali del 2023 siamo addirittura d'arrivo così poi partiremo col 2023 2024 e vedremo di fare è su des possible prima dell'inizio dei del lavoro ciao